Se un giorno sta più un Amstel, ti prende. Ti prende perché è fuori del comune o forse perché è internazionale, ma vedrai. Amstel ti prende. Forse ti prende perché ha il sapore di Amsterdam o perché è la birra da intenditori, chissà. Ma non c'è dubbio. Amstel, prima o poi, ti prende. Amstel, da Amsterdam. Amstel, da Amsterdam.